Canale 5 è la casa degli italiani che ospita Matrix Chiambretti, che lo affitta alla casa russia, che a sua volta lo subaffitta alla casa del grande fratello e ad uso foresteria a quella della grande sorella. Matrix Chiambretti, tanti metri quadri di contenuto in tv, senza imu al venerdì in seconda serata su Canale 5.